Qualcuno mi ha chiesto da me, ma perché voi a Bari ripetete sempre le frasi? Allora, sta cosa che noi ripetiamo sempre le frasi mi fa incazzare. Che mi fa incazzare? Ogni tanto ripetiamo le frasi, ma giusto per farci capire meglio. Infatti a noi non basta dire che una cosa è buona, ma dobbiamo per forza dire che è buona. Non è che non è buona. Ed è altrettanto facile sentirsi dire Te l'avevo detto! Che te l'avevo detto! Non è che non te l'avevo detto! Ma la parola la raddoppiamo anche quando vogliamo incitare qualcuno ad avere un determinato comportamento. Ehi, ehi, belle belle, giovane, allegra legge. Quando invece vogliamo indicare a qualcuno una quantità esigua, diciamo sicuramente Ma l'apice lo raggiungiamo in famiglia, specie quando ci dobbiamo rivolgere ai bambini in maniera comprensiva e affettuosa. Ed è proprio in quella circostanza che in qualsiasi frase aggiungiamo Alla nonna, a mamma, alla zia, a papà, e mangia la nonna, e vieni a mamma. Ma? Ti piace la zia? Madonna, sei troppo bella, papà! Che si è bar? E chi è solo bar? Che sono bar?